L'indice RT in Friuli-Venezia-Giulia sale ancora, è quanto indicano i dati della bozza del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità che portano il valore a 1.42 in regione. Più in generale tutti i parametri risultano in peggioramento a partire dal tasso di occupazione delle terapie intensive balzato in avanti di 10 punti percentuali in appena 7 giorni. Questo trend fa concretamente ritenere che la zona rossa si applicherà alla regione anche successivamente a domenica 28 marzo e quindi comprendendo tutta la settimana che porta il weekend di Pasqua e Pasquetta. È chiaro che la situazione preoccupa sempre, che sia in qualsiasi condizione si presenti. Noi stiamo vivendo quello che sta vivendo il Paese. Qui c'è un valore in particolare in una parte della regione più elevato. L'indicatore dell'RT ha qualche decimale in più di quello della scorsa settimana, quindi sostanzialmente siamo in quella linea che ha un valore elevato. Quindi è chiaro che questo ci sta proponendo una pressione spedaliere molto alta, quindi anche su questo ci stiamo organizzando per riuscire a fronteggiare quella sezione importante di domanda in aree mediche e in terapie intensive. A riprova della difficile situazione attuale anche i numeri odierni dei nuovi positivi, con 1058 casi su un totale di 12.440 tamponi effettuati. Pesante quindi la situazione dei contagi, considerando una crescita del 16% dei casi, erano 3.817 e sono diventati 5.032. Le terapie intensive in una settimana sono passate dal 34% al 44%, cioè abbondantemente sopra la soglia limite ministeriale del 30%. Anche il dato dei posti letto in area medica è in aumento di 5 punti percentuali, dal 37% al 42%, eppure in questo caso a partire da questa settimana sopra il tetto stabilito da Roma del 40%. Pollice verso anche per i focolai attivi cresciuti di oltre 400 unità, da 1.062 a 1.490. Per i nuovi cluster di trasmissione in aumento di più di 200, da 545 a 772, eppure per i casi di cui non è nota la catena di trasmissione. Erano 1.340, sono diventati 1.673.